Salve a tutti ragazzi, io sono Shao Raga e come potete vedere al cappello ho già un video particolare Bene, oggi iniziano le sponsorizzazioni Sponsor Time! Non ci vorrebbe una musichetta però Allora, questo è il mio canale e non sponsorizzo il mio, non vi preoccupate Passiamo al primo canale di oggi Oggi saranno sponsorizzati tre ragazzi Ce ne sono anche altri però ne farò tre all'inizio poi vediamo come va Tre ragazzi, il primo è Videogame Planet Planet Questo ragazzo ha caricato 14 video mi pare 12 video 12 video Andiamo nelle informazioni Ha 114 iscritti E 424 visualizzazioni Devo dire che è molto divertente Adesso leggiamo un attimo le sue info Ciao a tutti, mi chiamo Daniel E questo è il mio canale Qui troverete soprattutto gameplay di videogame del passato e del presente Seguitemi Se volete Allora, devo dire che per ora Io lo sto seguendo Ha fatto Come potete vedere Borderland E Metal Gear Io Questo ragazzo lo Soprattutto insomma Poi ha fatto Anche un video speciale Vabbè dopo faremo vedere il video speciale E io seguirei soprattutto per questo gioco qui Metal Gear Perché è veramente spettacolare E già solo per quello merita Adesso vediamo un attimo il video Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo speciale Per i 100 iscritti Qui su Video Game Planner Finalmente Finalmente Più o meno Sfortunatamente mi vedrete Sempre qui con me E con te E con te E con te Mi vedete Mi ammirate Bene In pratica È arrivato a 100 iscritti E Questo in pratica È lo speciale per i 100 iscritti E Devo dire che è molto divertente Tanto Intrattenere molto bene il pubblico Molto meglio di me insomma E Quindi Vi invito Vi lascio il link in descrizione Vi invito a iscrivervi E a seguirlo Perché è un ragazzo E veramente merita Devo dire che Carica i video Con una certa regolarità Insomma Come potete vedere qui Nell'ultima settimana Una carica di 3 Però più o meno Ci sta insomma È abbastanza Prolifico Come si può dire Il secondo canale di oggi È questo Ghost Destroyer Ghost Destroyer Andiamo nelle informazioni Ha 66 iscritti E 3552 visualizzazioni Se cercate un canale In cui ci sono molti video gameplay E tutorial E un mondo Di risate Allora siete Nel posto giusto Allora Sto ragazzo Ha caricato Veramente Tantissimi video Come potete vedere Sono tantissimi Sono tantissimi Non ve li sto a contare Però dovrebbe essere una cinquantina Insomma 10, 20, 30, 40 44 Beh E non so perché Sono quasi due mesi Che non carica più video È un vero peccato Perché veramente Fa di tutto Fa i giochi Fa i tutorial Come dice lui Fa i giochi Fa i tutorial È molto divertente Veramente Quasi quasi vi faccio vedere Un pezzo di questo video L'unica cosa Che gli potrei consigliare È provare A alzare un pochettino L'audio del microfono Perché a volte È un po' faticoso Sentirlo Dice In questo gioco Proviamo a fare Van Gogh Che lui è Van Gogh In pratica E Devo dire che è molto divertente Vabbè Vi lascio a lui Insomma Cioè guardate Ditemi cosa Allora volevo Ti invito a dire Che sono stato molto assente In questi tempi Sì 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 Perché mi stavo un po' Scelerando un po' Sì Con la fiducia Per far fare il tempo Dice che il video è bello Per scelerare Infatti Parlo del video In che sclero Però Toglierò l'audio Sì Perché 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 se no Sono in caro Lì Oh Dio Vediamo già Vediamo già Adesso vi sfido Indovinate che cosa sta disegnando Pano Pano Che un elicottero Qualcosa mi dice No 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 È quello Pan di zenzero Pan di pan No È in inglese Guarda Pano Pano Di Gen Pano 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 Gingera Grecia Gua Pano Bene Allora Se siete In curiositi Almeno un pochettino E io spero Che lo siate Vi invito A andarlo A seguire Perché è un ragazzo In merita Non so perché, spero per lui che riesca a caricare al più presto qualche altro video Perché è un vero peccato E appunto stavo dicendo non so perché non ne carichi più nessuno E anche questo è concluso, sì E passiamo al terzo ragazzo di oggi Oggi, come terzo ragazzo, abbiamo Fre... 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 HD Un nome più facile, per caso mai nel futuro cambiare il nome uno più facile Allora, andiamo subito nelle info Come ormai avete capito Ha 473 iscritti, veramente tantissimi Ha 4332 visualizzazioni Come potete vedere ha anche altri canali E benvenuti nel canale da gaming migliore del mondo E forse siamo lì insomma E andiamo nei video Come potete vedere lui fa molto Minecraft E Team Fortress 2 che è un gioco completamente folle Fa video sponsorizzazione Che eccoli qui Video sponsorizzazione E ogni tanto lancia anche dei contest Dei contest che per chi come me È un... Uno youtuber Sono molto importanti Sono molto utili, molto interessanti Proviamo a prenderne uno L'ultimo, un video E... Vi lascio a lui insomma No ragazzi è illegale È assolutamente illegale Proprio... Del mondo, della vita, del pianeta Assolutamente illegale Ecco, l'unica cosa forse è che dovrebbe abbassare un pochettino l'audio della intro Quando va a montare il video È perché ogni tanto Rompe un attimo i timpani Lui su Minecraft Si diverte molto a fare video Che come chiama lui Di Skywars Dove ci sono delle vere e proprie battaglie Insomma per chi cerca l'adrenalina Che non si trova in Minecraft Lo può andare a vedere qui Insomma E... Comunque quello c'ha veramente una skin spettacolare Quindi Ora mi butto ragazzi Quindi ok Questa partita Dai che ce la fai Dai che ce la fai E... Volevo dire che la prossima Bene E... Pure con lui Io spero che vi... Vi interessi almeno un pochettino E... Vi invito ad andarlo a visitare Come sempre vi lascio il link in descrizione Il link del suo canale in descrizione Spero che il video vi sia piaciuto Spero che vi iscriviate a questi tre canali Perché sono spettacolari E... Spero che vi iscriviate al mio canale Se vi sono stato un po' Almeno un po' simpatico E... Se anche voi volete essere sponsorizzati In descrizione troverete comunque Ehm... Come si chiama? Ehm... Le regole Non mi viene la parola Traverete il regolamento E... Nel regolamento c'è scritto tutto Insomma E vi invito a mettere un mi piace Un commento A condividere il video Al prossimo appuntamento Qui con Ciao ragazzi Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti